Bartolo Cozzoli, commissario straordinario della Casa Divina Providenza, aveva deciso di revocare il contratto con l'Ambrosia Technologies SRL, la principale società fornitrice dell'ente, che si occupava di pulizia e ristorazione. Un contratto trentennale con condizioni economiche assolutamente fuori mercato. Una decisione che però Antonio Nardella, 45enne e sindacalista di Foggia, non ha gradito. E così il 15 febbraio scorso, insieme ad un gruppo di circa 30 persone, feci ruzione negli uffici della struttura, dove si trovava Cozzoli, lo minacciò e lo aggredì. Questa mattina i militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Bari e i carabinieri della Compagnia di Trani, su richiesta della locale procura, hanno arrestato Nardella, dipendente dell'Ambrosia SRL, con le accuse di estorsione aggravata, minacce e violenza. Non un semplice gruppo di persone, ma un vero e proprio commando di violenti, così li ha definiti il procuratore capo Carlo Maria Capristo, capeggiato da Nardella, che prima di aggredire l'avvocato Cozzoli, lo minacciò con frasi pesanti come «Tu non te ne vai di qua se non firmi la revoca, tu non esci vivo, ti ammazzo». Cozzoli poi fu strattonato e picchiato, riportando graffi a ginocchio e ad un labbro. Analoghe minacce hanno subito i collaboratori di Cozzoli, tra cui il direttore amministrativo dell'ente Marcello Paduanelli, al quale fu messa a soquadro la scrivania, e il direttore finanziario Massimo Rubini, sfiorato da un pugno. L'irruzione del commando guidato da Nardella aveva lo scopo preciso di costringere Cozzoli a redigere un documento che annullasse la precedente disdetta nei confronti della stessa Ambrosia. Questo, nonostante il commissario avesse assicurato al personale dipendente che la risoluzione del contratto non avrebbe determinato la perdita di posti di lavoro. Un'aggressione che è un attacco alle istituzioni, ha detto Capristo nel corso della conferenza stampa. Quello che è accaduto è un fatto gravissimo, è un'azione fatta per minare l'autorevolezza dello Stato, che è intervenuto per cercare di salvare la Casa Divina Providenza e i suoi dipendenti, ha spiegato il procuratore aggiunto Francesco Giannella. L'amministrazione straordinaria rappresenta l'intervento dello Stato, perché il commissario straordinario è nominato dal ministro dello sviluppo economico, che ha lo scopo di tentare il salvataggio di questa azienda e di salvaguardare i posti di lavoro, migliaia di posti di lavoro. Attenzione, questa azione violenta è chiaramente un'azione che mina l'autorità dello Stato e mina l'autorità dello Stato tesa a realizzare gli obiettivi che la legge prevede. Lambrose SRL, principale fornitore della Casa Divina Providenza, da anni godeva di condizioni di privilegio, condizioni che hanno contribuito al dissesto economico dell'ente religioso, racconta il magistrato Silvia Curione. L'azione che noi abbiamo contestato non ha la ragione giustificativa della tutela dei posti di lavoro o comunque delle condizioni dei lavoratori, ma è evidentemente finalizzata la conservazione di un privilegio, che erano queste condizioni assolutamente anti-economiche per CDP, che il contratto con Ambrosia aveva e purtroppo ha tuttora, visto che appunto il commissario, all'esito di questa azione aggressiva, è stato costretto a rivedere la propria determinazione. Ambrosia è il principale fornitore, assolutamente il principale fornitore di CDP, che gode da parecchi anni di condizioni di assoluto privilegio, condizioni che appunto il commissario voleva evidentemente fermare con una revisione in un primo momento del contratto e successivamente la risoluzione unilaterale. Ma questo, come abbiamo detto, non è stato possibile. La Casa Divina Providenza di Bicelli era finita nell'indagine che rivelò il crack finanziario di circa 500 milioni di euro. L'operazione denominata Oro Pronobis portò nel giugno dello scorso anno all'arresto di diverse persone, accusate anche di associazione per delinquere e bancarotta. Intanto proseguono le indagini, volta ad accertare l'identità degli altri componenti del gruppo, al momento ci sarebbero diversi indagati.